Assessore ci sono importanti interventi già dai primi mesi del 2023 nella nuova rotatoria del quartiere di Rosciano, ecco di che cosa si tratta? In seguito all'importante realizzazione della rotatoria della zona del Codma, anzi delle importanti rotatorie delle zone del Codma, perché ricordiamo un'infrastruttura strategica proprio per la messa in sicurezza di quel luogo dove sono successi e accaduti dei fatti gravi, noi siamo intervenuti con un'opera che in questo tempo abbiamo potuto monitorarne poi l'efficacia, grazie alla sollecitazione di voi cittadini ma anche di tutte quelle persone che naturalmente sono interessate ai grandi trasporti, pensiamo agli autobus piuttosto che ai camion o altri mezzi, diciamo che abbiamo notato che ci sono dei restringimenti, ristringimenti fin troppo, quindi spesso il mezzo cade nella banchina di fianco e questo non va bene. Oggi abbiamo incaricato il progettista ma anche poi la ditta che ha fatto i lavori di fare delle migliorie, le migliorie consistono nel largamento di quelle che sono le banchine di transito di almeno un metro, quindi in tutta la parte diciamo del cordolo della rotatoria ma anche nel tratto proprio di percorrenza, oltre questo andremo a livellare tutte le tre aree verde di pertinenza, ce ne sono tre, una ricordiamo che è verso ridosso diciamo del quartiere di Rosciano dove oggi c'è quel piccolo tratto di camminamento e c'è un'area verde, quella andrà tutta livellata e lì verrà addirittura realizzato un fosso di guardia proprio per permettere che le acque vengano scolmate e quindi che non ci sia un ristagno d'acqua. Dalle altre parti invece, nella parte quella verso il Codma, anche quella verrà livellata, come quella verso a ridosso della casa, quindi in curva, dove di fianco in un secondo momento realizzeremo anche proprio un percorso per mettere in sicurezza bici e pedoni. Detto questo andremo poi a mettere a dimora anche all'interno dell'area verde, proprio al centro della rotatoria, un ulivo della vegetazione e di arbusti fioriti bassi che permettano poi di avere una migliore visibilità e nello stesso tempo faremo anche una verifica illuminotecnica per quanto riguarda il palo che spesso noi siamo costretti per i grandi trasporti a spostare, quindi proprio per migliorare la visibilità di quel posto. L'obiettivo di quella rotatoria era sicuramente decelerare la velocità e sempre in termini di sicurezza. Oggi abbiamo degli elementi in più, per cui dai primi mesi dell'anno partiranno i lavori.